Bertola, lei è stato autore per il blog di Grillo di un post sull'immigrazione che è stato anche un po' discusso, ma perché c'era chi in Parlamento non era d'accordo con le sue parole. Lei, le volevo chiedere, però diciamo che poi siccome nel Movimento 5 Stelle tutti i cittadini sono uguali, quindi diciamo che lei è un consigliere comunale, però il suo parere è altrettanto autorevole quanto quello di un parlamentare, perché non ci sono gerarchie, è giusto Bertola? Sì, certamente. Volevo capire adesso da lei, cosa ne pensa delle parole di Salvini sulla Chiesa riguardo all'immigrazione? Io penso che la Chiesa vada apprezzata quando fa uno sforzo concreto per accogliere le persone e non solo questo, perché bisogna riconoscere che la Chiesa fa molto nel campo sociale venendo anche incontro alle mancanze dello Stato, però è indubbio che nel mondo cattolico ci sia anche una componente che sull'accoglienza ci vive, nel senso che fa parte di quel mondo di cooperative, associazioni, eccetera, che prendono parte del miliardo di euro ogni anno che noi spendiamo per l'accoglienza delle persone che arrivano. Comunque il problema vero è probabilmente l'errore di fondo che facciamo noi come Italia e non riuscire a distinguere, perché voi giustamente nel servizio mostrate le persone che scappano dalla Siria, dall'Iraq, che hanno tutto il diritto di venire accolte, che scappano veramente dalla guerra. Ma se uno va a vedere i dati su quelli che sbarcano, non magari dal canale ungherese, ma in Italia, la maggior parte non arrivano dalla Siria, che non è neanche tra le prime dieci nazioni per provenienza, ma arrivano da posti come la Nigeria, il Pakistan, il Senegal, il Gambia, cioè paesi che non sono in guerra, anche se purtroppo sono paesi magari un po' instabili e non sono queste persone che scappano dalla guerra, che sono a rischio di morte, eccetera, sono semplicemente persone che cercano di venire qui per trovare una vita migliore, per guadagnare dei soldi. Allora, noi dobbiamo capire, in questo caso, cioè non per chi fugge veramente dai veri rifugiati, ma per questi, quanti ne possiamo accogliere, se è giusto accoglierli, se ha senso accoglierli per poi magari lasciarli, dopo averli sfruttati un anno, per incassare 35 euro al giorno, lasciarli in mezzo a una strada e creare degli accampamenti disbandati di persone che non riescono a integrarsi e non sanno cosa fare e che diventano poi un problema sociale per se stessi e per le persone che ci vivono vicino. E quindi noi dovremmo cominciare veramente a occuparci seriamente di problemi concreti e cercare di risolvere l'accoglienza, farla meglio per chi ne ha diritto e però per chi non ne ha diritto e sarà anche più seri nel rimandarli da dove sono venuti. Noto una convergenza con le posizioni legiste. Con la Lega, assolutamente si metti di qua la Lega questo discorso. Però volevo sentire da un commento. Complimenti. No, non credo proprio, perché la Lega mi sembra piuttosto sulla chiusura totale, non mi sembra molto... Io credo invece che l'unica soluzione concreta di buonsenso sia quella di distinguere le persone e capire da dove vengono e perché sono qui e perché sono qui.